buongiorno o forse buon pomeriggio non so esattamente poco poco fa l'ingegner bascio ci ricordava appunto che il itaca è un'isola e che un signore ci ha impiegato qualcosa come dieci anni per arrivarci un signore ecco noi siamo stati più rapidi di odisseo siamo arrivati forse solo in tre anni però dire che siamo arrivati è ancora un po' prematuro perché abbiamo ancora alcuni giorni abbastanza cruciali e pesanti che ci separano dal traguardo almeno dell'inizio del corso e io vorrei ringraziare almeno per la mia parte tutto il gruppo di lavoro che si è creato fra le facoltà di architettura e di lettere a Sassari che sta lavorando in questo aumento ad un ritmo forse nato e che forse appunto meriterebbe maggior rilievo. Allora Sassari ha organizzato in maniera forse leggermente diversa l'impianto diciamo così didattico innanzitutto quando parlo di Sassari l'ha già detto il professor Macciocco ma lo ripeto intendo il fatto che noi gestiamo tre classi a Oristano quattro classi a Sassari una ad Alghero una ad Ozieri due in Gallura una a Olbia e una a Tempio e quattro a Nuoro. Sassari ha omogenizzato su tutto il percorso che dovrà partire dal 10 di aprile e terminare a giugno appunto dell'anno 21 ha organizzato questo percorso in maniera abbastanza univoca per tutte le classi quindi con i blocchi che partono tutti più o meno in contemporanea e che si susseguono l'uno con l'altro. In particolare il primo blocco che partirà a Sassari sarà su tutte le classi il blocco del paesaggio storico e poi seguirà quello rurale o agrario come Vanni Macciocco sole chiamarlo poi seguirà il paesaggio urbano credo e il paesaggio costiero è il modulo ultimo di riqualificazione del paesaggio. Naturalmente una delle nostre cose essenziali per il nostro lavoro è stato quello di cercare innanzitutto una uniformità tra questi blocchi perché altrimenti finisce che facciamo un lavoro per tre mesi e poi dopo ne facciamo un altro di altri tre mesi e così via e tutto questo ovviamente non servirebbe a niente. Perché il paesaggio storico è stato scelto come paesaggio iniziale semplicemente perché come dire il paesaggio storico è fondamentalmente un concetto cioè se noi prendiamo la banale definizione di paesaggio data dall'enciclopedia Treccani dice che il paesaggio è ciò che vedo è ciò che si vede davanti agli occhi e naturalmente qualunque cosa cioè quello che noi vediamo davanti agli occhi è ovviamente già di per sé un fatto storico perché perché il paesaggio si modifica continuamente e quello che c'era ieri ovviamente non c'è oggi. Sono concetti banali ma importanti e allora noi intendiamo gestire il modulo di paesaggio storico proprio come un elemento propedeutico per gli altri corsi quindi consapevoli che qualunque paesaggio rappresenta in sé un paesaggio storico e consapevoli anche che la storia deve essere vista come qualcosa non solo di molto antico ma anche di più recente cioè ieri è già storia in qualche maniera. Quindi noi non affronteremo nel paesaggio storico l'archeologia del paesaggio. Noi faremo l'archeologia intesa in qualcosa che è antico ma non antichissimo e questo è estremamente importante. Noi ovviamente affronteremo nelle varie classi dei casi concreti. I nostri co-docenti sono all'opera per individuare questi casi che saranno poi portati avanti per tutto il percorso del corso e avremo ovviamente come base il piano paesaggistico regionale. Questo non c'è il minimo dubbio. Naturalmente utilizzeremo quello che il piano paesaggistico regionale ci ha dato soprattutto a livello di supporti informatici, utilizzeremo le carte eccetera eccetera naturalmente ci prenderemo la libertà di aggiungere o togliere con spirito critico costruttivo al piano tutto quello che man mano nel corso del lavoro dovesse eventualmente emergere. Prenderemo ovviamente come base essenziale gli ambiti di paesaggio, quelli già individuati appunto dal piano paesaggistico regionale. Per quanto riguarda casi concreti intendiamo subito chiarire che non saranno casi concreti di tipo comunale, cioè non andremo a risolvere i problemi del PUC di un comune o di un altro. Cercheremo ovviamente di affrontare casi diciamo su territori almeno intercomunali che naturalmente possano avere degli interessi specifici collegabili tra di loro. Alcune classi lavoreranno verosimilmente sugli stessi territori ma magari su problemi o cose o problematiche appunto diverse. Noi ovviamente analizzeremo questi casi concreti attraverso gli assetti previsti dal piano paesaggistico regionale che sono stati abbondantemente spiegati qui questa mattinata. La lettura, come dice giustamente ancora il dottor Bascio, che mi ha bruciato molte frasi, ecco la fase preliminare è la lettura del paesaggio. Quindi noi dovremmo cominciare a leggere questo paesaggio che ripeto è comunque da intendere come un paesaggio in fieri perché qualunque paesaggio è comunque in trasformazione nei secoli ma anche nel momento. Naturalmente la lettura del paesaggio deve essere appoggiata da una comprensione di questo paesaggio perché se si legge soltanto il rischio è notevole e naturalmente appunto ripeto dobbiamo considerare il suo aspetto dinamico. Nel blocco particolare attenzione sarà dato all'assetto storico-culturale, però non dobbiamo assolutamente dimenticare gli assetti ambientali e insidiativi. Dovremo tener conto ovviamente delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale e soprattutto degli indirizzi e verificare anche la loro eventuale congruità con la situazione effettiva. Faremo quindi eventuali osservazioni e interpretazioni delle norme. Ci dovremo poi anche confrontare con il problema dei livelli di valore paesaggistico che poco fa veniva messo in qualche maniera in luce. Ecco si pensa spesso appunto che il paesaggio storico quindi l'aspetto archeologico sia molto limitato al livello 1, cioè a quello come dire che non praticamente evita qualunque costruzione, qualunque intervento perché c'è la tutela punto e basta, quindi una tutela molto rigida. Ma io sono assolutamente convinto che la tutela e la valorizzazione si possono avere non tanto chiudendo questi beni dentro dei fortini, quindi staccandoli da tutto il resto del paesaggio ma invece coinvolgendoli in un discorso più omogeneo di questo paesaggio. Quindi tutela e valorizzazione vanno assolutamente prese in considerazione continua e omogenea tenendo conto che la costruzione, soprattutto nelle zone di valore, nel livello paesaggistico di tipo 1, la costruzione deve essere semplicemente e molto però fortemente una costruzione ideologica. Quindi praticamente si tratta di pensare a come sistemare tutti questi beni che sono fortemente tutelati nel contesto di un paesaggio che sia comunque vivibile a livello sociale. Ricordiamo anche appunto che ormai da molto tempo che ci sono raccomandazioni molto specifiche in questo senso per cui si ritiene che una delle migliori tutele, uno dei migliori restauri e uno dei migliori momenti di conservazione si può avere attraverso l'intervento attivo delle popolazioni attraverso il coinvolgimento delle popolazioni. Dovremo tener conto ovviamente di tutte queste cose. Come si svolgeranno questi corsi? Io vorrei appunto rassicurare tutte le persone che è vero che dureranno un po' come sta durando oggi il nostro incontro ma è altrettanto vero che noi cercheremo di evitare in maniera, non dico completa, ma di portare al minimo le lezioni frontali. Il nostro lavoro sarà basato soprattutto sui laboratori e naturalmente sarà importantissimo a questo punto il discorso del FAD cioè della formazione a distanza ma anche in aula lavoreremo molto, anzi il più possibile, sulle carte, sui sistemi informatici, quindi sul materiale nostro che è la lettura appunto del paesaggio e cercheremo di evitare appunto le lezioni frontali ai soli aspetti proprio metodologici iniziali o comunque ai problemi di inquadramento generale della situazione, naturalmente quadro per quadro. Credo di non aver detto quasi niente di tutto quello che noi realmente dovremmo fare ma d'altra parte il tempo anche un pochino incombe. Io spero soltanto avendo incominciato a lavorare appunto tre anni fa su questo progetto e avendoci creduto dal primo momento che nella pratica appunto riusciamo a trovare insieme a tutti quanti voi la forza per portarlo avanti e per fare qualcosa di diverso e di nuovo a livello appunto di formazione. Scusate se vi ho annoiato e vi ringrazio. Allora vista l'ora tarda e comunque considerato che un po' di spazio c'è dobbiamo in ogni caso aspettare io mi soffermo solo a fare una qualche considerazione quindi non ho materiale da farvi vedere solo una qualche considerazione su alcuni aspetti che così ho colto anche attraverso la discussione o le presentazioni che oggi vi sono state proposte, ci sono state proposte. Il progetto Itaca intanto nasce a mio avviso ma in un momento di grande consapevolezza culturale non solo a livello regionale ma direi a livello nazionale e internazionale. Nel 2000 voi tutti sapete è stata firmata da 45 paesi a Firenze la Convenzione europea del paesaggio, una convenzione che in qualche modo sta producendo degli esiti il codice urbani, un altro momento di consapevolezza della pubblica amministrazione importante. Ancora voglio ricordare c'è in discussione a livello internazionale il protocollo sulla gestione integrata delle aree costiere un altro momento di grande consapevolezza perché anche il lavoro Itaca ma anche la pianificazione che noi stiamo facendo in qualche modo è motivata da che cosa? Dalla legge salva coste quindi è lì sulle coste che si scaricano le tensioni, le pressioni e che poi in qualche modo si riflettono anche sulle zone interne perché voi tutti sapete non solo in Italia che le coste sono oggetto anche di addensamento demografico la gente dall'interno va via verso la costa perché le pressioni, le attività umane, i cambiamenti che abbiamo prodotto negli ultimi anni e che sono ragionevolmente prevedibili anche in relazione a quel terribile fenomeno turistico che è in fortissima espansione pensiamo solo quando si potranno muovere ancora di più di quanto fanno adesso cinesi, indiani, miliardi di persone i tempi quindi ecco quindi il turismo cresce in maniera veramente spaventosa e le coste sono un'area geografica che attrae la Sardegna per i suoi connotati peculiari per la diversità dei paesaggi, di ambienti, negli spazi costieri certamente richiamerà le attenzioni ancora più di quanto accada oggi oggi al centro lo sappiamo delle aspirazioni di tutti coloro che si accingono a voler fare del turismo estivo vi dicevo poi ci sono alcuni altri aspetti a livello regionale la legge salvacosta e così via tutto questo credo che intorno ad Itaca fa nascere un'attenzione, un interesse e da parte, io dico, da parte dei colleghi delle università che si trovano ad affrontare un progetto difficile una cosa è formare dei giovani che seguono con tempo e comunque con assiduità negli orari, nei programmi e comunque sono dei giovani che hanno molto da apprendere una cosa è formare gente con competenze con esperienze diverse a volte anche molto più avanzate di coloro che si troveranno di fronte a dover insegnare ma io credo che tutto questo costituisse un'occasione di arricchimento reciproco è stato già detto ma considerevole la formazione di comunità di persone che lavorano intorno a un progetto perché poi l'altra idea vincente a mio avviso del progetto Itaca può essere quella di lavorare intorno a un progetto e mettere insieme esperienze e competenze che il docente universitario ha realizzato nel corso della propria esperienza e che chi invece si trova a dover tutti i giorni lavorare per risolvere problemi concreti della gente o comunque si trova anche a pianificare e a proporre nuovi strumenti di pianificazione non solo ma anche di gestione perché qui abbiamo parlato anche di aspetti legati alla pianificazione ma la pianificazione seguono progetti che hanno bisogno grosso modo della stessa base informativa o ancora più accurata che serve per pianificare alla pianificazione come ricorda anche la Convenzione Europea del Paesaggio segue un aspetto gestionale noi dobbiamo imparare a gestire poi i paesaggi lo dice con molta chiarezza la Convenzione Europea dopo aver detto che bisogna individuare i paesaggi e questo credo sia ancora un lavoro è un campo sul quale spingere molto le attenzioni individuare i paesaggi valutare i paesaggi gli approcci sono diversi che nascono dalle diverse competenze disciplinari ci sono metodi ma poi bisogna valutare i paesaggi i metodi di valutazione ancora qui sono diversi quindi mettere a confronto la possibilità di mettere a confronto esperienze di chi si trova a doverle affrontare come proprie attività di impegno, di lavoro quotidiano chi comunque dal punto di vista dell'apporto metodologico dell'esperienza si trova allo stesso a dover impegnarsi in questi aspetti io credo che possa portare diciamo tutti ad un arricchimento reciproco e ad un avanzamento delle competenze delle conoscenze delle esperienze c'è un altro aspetto poi del monitoraggio che va affrontato un altro aspetto legato agli indicatori per valutare i paesaggi per valutare la qualità dei paesaggi per valutare le trasformazioni che avvengono sui paesaggi che volenti o non volenti avvengono in relazione a quelli che sono i processi naturali che cambiano il paesaggio di cui ci rendiamo solo in occasione di eventi catastrofici ma la natura cambia il paesaggio senza che noi lo vogliamo poi ci sono altre diciamo iniziative umane che cambiano il paesaggio la stessa economia volendo o non volendo l'economia è un fattore di trasformazione inarrestabile dei cambiamenti del paesaggio ecco l'obiettivo che ci sarei dato anche proprio per lavorare in un contesto difficile quale quello detto ribattito stamattina e di cercare poi di fare una volta che le classi sono composte un bilancio delle competenze dei singoli ma anche delle competenze del gruppo e insieme delle competenze di tutti anche della classe dei vari docenti che saranno chiamati ad insegnare o a cooperare io preferisco dire cooperare e quindi interessante elaborare questo progetto di sviluppo che è un po' coerente questo è negli obiettivi del progetto ITICA coerente con le competenze di ciascuno per quanto possibile con le rispettive attitudini non possiamo fare non devono diventare tutti esperti di tutto all'interno delle varie classi ma occorre valorizzare le capacità di ciascuno le attitudini di ciascuno per poter svolgere meglio all'interno poi della propria mission all'interno dell'amministrazione poter svolgere meglio insieme ad altri il proprio ruolo perché poi c'è un altro aspetto voglio dire che bisogna imparare a lavorare insieme a mettere a frutto le diverse esperienze e competenze ecco in questo senso questa divisione in blocchi ci sarà molto da lavorare abbiamo sentito i vari blocchi sui quali abbiamo operato delle grandi suddivisioni paesaggio storico paesaggio rurale in fondo è in qualche modo introducendo un'analisi una lettura diversa da quella del piano paesaggistico quando parliamo di paesaggio storico di là abbiamo visto gli ambiti di paesaggio poi abbiamo visto che il piano forestale introduce dei nuovi delle nuove aggregazioni se vogliamo dei nuovi ambiti beh ecco su questo dovremo ragionare sarà l'occasione anche per ragionare tutti insieme con i portatori delle diverse esperienze forestali ma anche abbiamo visto gli archeologi il bello è questo poter mettere insieme tante esperienze e differenziare per esempio il paesaggio rurale noi parliamo di paesaggio rurale ma pensate questo paesaggio rurale quanto è diverso nella nostra isola le pianure le pianure del Campidano che so la parte interna delle pianure costiere che rientrano seppure probabilmente negli ambiti costieri le pianure vallive interne gli altopiani le regioni carsiche granitiche i paesaggi vulcanici quindi una differenza di spazi che abbiamo detto agrari o rurali anche io sono convinto che sia forse meglio definirli come tale danno delle differenze di caratteri fisico-morfologici fisico-morfologici vegetazionali di potenzialità di vocazioni in relazione a specifiche attitudini che ci sono nel territorio che però noi dobbiamo andare ad estrarre le vocazioni le attitudini le differenze io per la parte della mia esperienza posso dire noi abbiamo visto queste analisi o altre analisi ma mi pare sia sottovalutato e forse c'è da estrarre lo dico come contributo positivo alla lettura all'analisi tutta una serie di esperienze legate a Valenze legate alla geodiversità per esempio avete visto una delle carte che sono state proposte quella che parte dall'analisi APAT sui tipi di paesaggio sull'analisi del paesaggio la diversità del paesaggio geologico dell'iso ecco la geodiversità merita ancora di essere approfondita seppur è considerata nelle relazioni ma forse si deve lavorare molto anche per individuare quelli che a volte vengono individuati come monumenti naturali monumenti del paesaggio come landmark o come a volte paesaggi d'insieme che proprio dagli aspetti geomorfologici danno connotati evidenti e particolari di grande valenza scenografica di grande valenza paesaggistica al territorio della Sardegna che guardate non a caso costituisce il riferimento un po' per la cultura specialistica europea come bisogna lavorare ancora molto sulle spiagge mi veniva in mente noi le spiagge sono poi il motore o la base la risorsa base sulla quale si costruisce tutto il fenomeno turistico dell'isola e sulla quale anche la regione ha impostato ha impostato in qualche modo le volumetrie io ricordo voglio ricordare il famoso decreto Floris ecco qui ce l'ho segnato l'articolo 4 del decreto 2266 urbanistica dell'83 laddove si differenzia la costa sabbiosa per profondità maggiore di 50 metri la costa sabbiosa tra 30 e 50 metri la costa sabbiosa per profondità minore di 30 metri la costa rocciosa e il totale della costa ora ora è la costa rocciosa ora la costa rocciosa è beh la costa rocciosa è una costa accessibile e inaccessibile è una costa a falesia impenetrabile che costituisce una barriera per qualunque fruizione o una costa rocciosa bassa dove una capacità di fruizione esiste le coste basse sabbiose e ci sono le coste basse sabbiose e ciottolose immagino siano state lette insieme ma quelle sabbiose e sono sabbiose o ciottolose o anche solo ciottolose la capacità e l'attrattiva è diversa credo quindi l'analisi un approfondimento specialistico di certi tipi di analisi può aiutare meglio anche a valutare poi che so in questo caso specifico i volumi insediativi perché i volumi insediativi hanno fatto riferimento alle caratteristiche della costa e poi questi dati sulla costa quando li rileviamo ad esempio li rileviamo adesso nella stagione invernale o li rileviamo nella stagione estiva ebbene ci sono spiagge che hanno una dinamica adesso chiudo chiudete mi ha richiamato all'attenzione grazie hanno una dinamica incredibile con variazioni di decine di metri e allora capite se leghiamo i volumi tutto questo io credo potrà costituire oggetto di approfondimento di analisi la valutazione quindi anche di questo elemento del paesaggio delle spiagge non marginale non secondario ma anche lo sviluppo che mi ricollega ad un aspetto dell'innovazione degli strumenti nuovi noi per esempio non abbiamo una sola spiaggia attrezzata per un'analisi seria che ci serva a capire il dinamismo della costa ma anche le pressioni di fruizione che adesso ci sono strumenti le webcam che ci consentono di controllare tutto quello che succede sulla costa in continuo ecco credo sia l'occasione Itaca per fare dei grandi passi in avanti tutti insieme e per qualificare il nostro paesaggio grazie grazie allora il dottor Massimo Temussi che doveva relazionare sulle classi rinuncia per ragione di brevità tutte le tutte le informazioni comunque le trovate sul sito di Itaca e come sul sito troverete anche le nuove informazioni e poi adesso ne prenderemo contatto per entrare nella fase organizzativa grazie per l'attenzione grazie a tutti